Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale, solo un bravissimo avviso per ricordarvi che stasera dalle 9 alle 23.30 ci sarà il Glitch Road Super Show. Non so ancora quali saranno i giochi pianificati, ma sicuramente partiremo con la Daily Challenge di The Banding of Isaac Afterbirth. Stavo per dire rebirth, ma ho imparato a correggermi in tempo. Mi raccomando, non mancate, potete seguire la live in diretta, logicamente, su twitch.tv slash glitchroad oppure sul mio canale YouTube tramite il servizio gaming.youtube. Detto questo, non mancate, vi ricordo che vi saranno in regalo due giochi durante lo stream tra il passaggio da un segmento all'altro. Verranno regalati due giochi, potete partecipare all'estrazione dei giochi rispondendo per primi a una domanda posta da noi sulla chat di Glitch Road. Quindi su twitch.tv slash glitchroad, scrivendo nella chat la risposta per primi rispetto agli altri, potrete vincere uno dei due giochi messi in palio durante la serata. Detto questo, non vedo l'ora di vedervi tutti alle 9 stasera. Ciao a tutti!